In questo anno difficilissimo per la Ferrari io non ho perso tutte le speranze, in quanto la notte scorsa ho fatto un sogno che spero, e di solito i sogni si avverano, che Alonso e Hamilton partiranno in prima fila, alla prima curva usciranno e Ray Kohnen vincerà questo campionato del mondo e in Italia si festeggerà fino a notte inoltrata emulando le stesse feste che abbiamo fatto quando abbiamo vinto i campionati mondiali di calcio. Questo sarebbe un auspicio mio e penso di tutti gli sportivi italiani, perché nella McLaren c'è molto di Ferrari, in quanto hanno capito i segreti della casa di Maranello e con delle scorrettezze che tutti noi conosciamo. Quindi io penso, penso e spero e mi voglio augurare che ciò avvenga, cioè che Alonso ed Hamilton, se c'è una giustizia divina, alla prima curva devono uscire, consentendo a Ray Kohnen e alla Ferrari di raggiungere questo strepitoso successo che ci consentirebbe di festeggiare fino a notte inoltrata.